Di Cremona, come la Ferragni. Si descrive così sul suo profilo Instagram nonno Paolo Influencer, al secolo Paolo Stroppelli. Ottant'anni compiuti, vive tra San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio e sui social si mette in posa, posta le storie, realizza i cosiddetti reel. Indole da uomo tuttofare, da qualche settimana è sbarcato su Instagram. Ho fatto un po' un manuale, un po' di muratore, falename, ciclista, giusto le biciclette, qualsiasi roba. Mi piace, mi piace fare qualcosa. L'idea è nata da Elisa, la nipote di nonno Paolo, che era stanca di vedere sempre lo stesso tipo di profili su Instagram e quindi ha pensato di mettere suo nonno all'opera. Come tutti possono vedere su Instagram, le cose, i profili proposti sono sempre più o meno uguali. Ragazze belle che si truccano, coppie che fanno viaggi, più o meno siamo sempre sulla stessa linea. E ho detto provo con mio nonno perché comunque so di avere un nonno particolare, molto attivo, specialmente per la sua età. Nonno Paolo ha una lunga carriera di sarto alle spalle e si diverte ancora con gli strumenti del mestiere. Nelle foto che posta, spesso indossa abiti realizzati con le sue stesse mani. Niente prove o messe in scena, a vincere è sempre la spontaneità del momento. Prende il momento giusto, mi prende. Io non sapevo niente, è stata lei proprio per fare i profili. Guarda che ho messo così così, ho detto, ah beh, sentiamo. Alla prossima